Spesso sottolinea che ancora prima che misure nuove servirebbe da parte del legislatore una maggiore comprensione del mercato, perché? Perché non viene compreso da parte del legislatore l'importanza di un settore come quello immobiliare, quindi vengono varate misure spot spesse volte oppure ci si interessa solo al tema della prima casa, tassazione sì, tassazione no, o comunque vengono previste interventi che cambiano di anno in anno. Serve stabilità, serve comprensione dell'importanza del settore, servono di conseguenza misure concrete e stabili per favorire lo sviluppo dell'economia attraverso il sistema e il comparto immobiliare. Le elezioni che ci saranno tra poche settimane potrebbero paralizzare il legislatore nelle scelte? Il legislatore se non fa scelte sbagliate magari è già un vantaggio ma scherzi a parte, il legislatore potrebbe sfruttare questi periodi, quello che si prepara a legiferare nella prossima legislatura per comprendere le cose da fare. Noi abbiamo fatto dieci proposte che sono dieci spunti, in definitiva speriamo che ne vengano colti almeno alcuni e che la nuova legislatura si apra nel modo migliore per noi. Grazie